Politiche sociali, anziani ai banchi e giovani informatici in cante tra un corso per spiegare il mondo digitale. Giovani in aiuto degli anziani nell'utilizzo delle tecnologie informatiche per guidarli nel mondo digitale. Si è svolto nel Centro Sociale Gotta Santa di Via Foti, un progetto realizzato dalla Fondazione Valdinotto, dall'Auser Siracusa dell'Istituto Superiore Quintiliano, con la collaborazione dell'Assessorato delle Politiche Sociali con il Patrocino del Comune. Il risultato è stato un corso pratico per l'accesso online ai servizi della pubblica amministrazione dell'Inps, in particolare quelli più utili agli anziani, che così potranno risparmiarsi di uscire di casa e sobbarcarsi lunga fila agli sportelli. Inoltre a tutti i partecipanti, circa 100, è stato rilasciato lo speed gratuito della Comune, grazie alla collaborazione della dirigente del settore informatico, Laredana Carrara, e del tecnico Antonio Screffignano. Viviamo in una società, dice l'Assessorato della Politica Sociale Barbara Rivioli, in cui le diverse generazioni hanno molto da offrire e da imparare l'una dall'altra. Lo scambio di conoscenze, esperienze e prospettive tra giovani e anziani è un prezioso patrimonio che arricchisce la nostra comunità e il tessuto sociale. Promuovere lo scambio intergenerazionale non solo favorisce la comprensione rispetto reciproco tra le generazioni, ma contribuisce anche a combattere l'isolamento sociale e la solitudine, specialmente tra gli anziani. Come continuità è il nostro compito incoraggiare e sostenere lo scambio intergenerazionale in tutte le sue forme, anche per rafforzare il tessuto sociale. Al corso sono intervenuti il Presidente del Centro Sociale Franco Veneziano e Giovanni Grasso, Presidente della Fondazione Valdinoto, che si è occupato della parte organizzativa. Gli aspetti operativi sono stati curati dal Liceo Quintiliano, diretto da Simone Tarnone. La scuola ha messo a disposizione le ragazze e i ragazzi della Quinta AS dell'indirizzo Scienze Umane e Economiche nell'ambito di un progetto didattico con cui i referenti erano le professoresse Carmela Sanzaro e Katia Peretti. Gli studenti hanno fornito l'assistenza per un corso di informatica di primo e di secondo livello, avendo così la possibilità di mettere in pratica le conoscenze acquisite con gli studi, misurandosi inoltre con quello che in futuro sarà il loro lavoro.